Buon dia a tutti amici di Doppia Frizione E niente, l'intro finisce qui perché qualcuno ha schiacciato il pulsante del GoPro e quindi ha chiuso la registrazione Comunque era una mini intro per far capire dove eravamo a Milano in un cartodromo chiamato Top Fuel E praticamente siamo andati lì a fare questa nuova serie chiamata Doppia Frizione Contro Tutti E niente, vi lascio al video 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.